Triburo Sonera, amici di ogni dove, amici di ogni squadra, buongiorno e bentrovati al nuovo appuntamento con il marietto milanista. Innanzitutto mi metto così, a mo' di stadio Camp Nou quando chiamano i loro grandi idoli tipo Messi, Messi, lo faccio con tutti voi iscritti, solo ieri, grazie al video di Arnaud che compra il Milan, sono arrivati quasi 100 iscritti in un giorno, quindi grazie, 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 siete dei grandi, grandi, quindi continuiamo a seguire quest'onda del marietto, iscrivetevi quindi al canale con la campanella accesa, però io adesso voglio parlare di un discorso che chiaramente ieri, dopo tutta questa marea di informazioni, sta baraonda che è uscita fuori con il discorso di Arnaud, poi è stato molto simpatico che un paio di persone mi hanno detto ma chi è sto cacchio di Arnaud? Scusate, ho preso qualche colpo d'aria, però realmente mi è venuto da ridere, però capisco che chiaramente non tutti possano sapere chi sono certi personaggi, come se tu vai da una persona che non sa niente di calcio e gli dici, oh ma ti ricordi Patrick Kluivert l'anno che giocò al Milan? È la stessa cosa, cioè è una stupidata, però per dire magari qualcuno non capisce. Da un altro lato invece le persone che invece sono molto negativiste, dove è sta notizia? E da dove l'hai presa? Ragazzi ma mettetevi nel web, cioè se siete qua a YouTube, ma anche nel web ci sono queste informazioni, io vi ho riportato un'informazione che mi hanno detto, amici che vivono in Italia e che vedono Tele 7 Gold o Tele Lombardia, Top 24 Calcio, tutti questi canali privati, che lanciano petardini e petardoni, però questo petardino era nato da Massimo Brambati, quindi io lo prendo come certo, visto che negli ultimi anni ci ha azzeccato, tanto che Guain se ne andava dal Milan a gennaio, tanto che veniva Ronaldo in tempi non sospetti, quindi non solo questo, seguite il video perché poi vi dirò anche delle fonti certe in cui Arnaud verrà al Milan. Adesso detto questo passiamo a capire chi è questo Arnaud, perché chiaramente noi vogliamo sapere, tanti di voi vogliono sapere realmente che personaggio è Arnaud. Innanzitutto Arnaud nasce nel 49 nel nord della Francia da una famiglia di industriali, il padre aveva in mano un'azienda di opere pubbliche che si chiamava Ferré Savigné o Savinel, non so se adesso bene la pronuncia, e già dal 71 quando lui ha finito gli studi, già si vedeva questa sua propensione industriale, imprenditoriale, tanto che fece vendere l'azienda a suo padre per investire i soldi di quest'azienda in appartamenti turistici in Francia, stiamo parlando in Francia negli anni 70 e cambiò il nome in Ferrinnel. Nell'81 quando è salito poi al potere Mitterrand come presidente della Francia decise di andarsene via. Fu una gran fortuna per Bernard, anno nato 5 marzo 1949. Fu una grande fortuna. E perché? Perché tre anni più tardi investì tutto il suo patrimonio, tutte le sue fortune per acquisire la financière Agash che successivamente in certi movimenti che solo gli industriali e imprenditori sanno lo ha portato ad acquisire nell'85 Christian George. Mi suona eh? La marca Christian George, soprattutto le femminucce. Poi approfittando nell'87 del crack che c'è stato nella borsa americana, il signor Bernard Arnault comprò le azioni di LVMH. Che cos'è questa grande azienda? E' la fusione di due colossi che erano del mondo degli champagne, Moet Tennessee, in cui c'era anche Moet Chandon, che ieri avevo fatto anche la battuta e Moet Chandonio se ne è Chandonio se viene Allegri e non è un Dom Perignon in quel senso. Poi l'altra invece azienda è quella che tutti conoscono, Louis Vuitton. Se le prese tutte e due e la fusione di questo era LVMH. Una volta questo chiaramente ha cominciato a espandersi una forma impressionante, tanto che negli anni poi ha acquisito marche di profumi che penso tutti conoscano come Kenzo, Berluti, Guerlain, Lowe, successivamente anche Marc Jacobs, Sephora, Emilio Pucci e tanti altri, fino ad arrivare ad acquisire addirittura Philips, tra le altre cose. Negli anni successivi ha preso anche Carrefour, si è messo nel mondo degli yacht, ha acquisito Princess Yacht, una delle marche più grandi di yacht di lusso e al momento è considerato il terzo uomo più ricco al mondo, superando i 100 miliardi di euro di patrimonio. Vedete voi, è anche un massone tra le tante cose, è un grande ufficiale di legione d'onore dal luglio 2011. La bomba veramente che ha cominciato ad alimentarsi sopra il discorso di Arnaud al Milan avvenne il 4 di dicembre, quando simultaneamente Marca, Sport e As, quotidiani spagnoli e io vivo qua per quello ve lo sto dicendo, lanciarono la bomba dicendo Arnaud sta comprando il Milan e con lui si vuole portare Guardiola e Messi. Con questo ho detto tutto, entrate nel web, andatevi a ricercare queste informazioni perché non vi sto dicendo stupidate e poi valuteremo insieme anche perché notizie di ieri Armani sembra che abbia anche confermato qualcosa. Diciamo che è normale che ci siano delle smentite, ma vi ricordate anche Ibra quando doveva venire al Milan in questi ultimi anni e sì e no e sì e no? Il presidente della MLS in ottobre disse che Ibra veniva al Milan. Due mesi di sì, no, sì, no. Per me era già tutto fatto, bisognava solo aspettare il momento per certi tipi di ingranaggi e questo succede in tutti i mondi del business e dell'imprenditoria. Oggi ti dico una cosa, ma non è che domani già ce l'hai, si devono muovere tanti di quei soldi là dietro e incastrare tanti dettagli che non è che queste cose si fanno già al domani. Quindi Arnaud è ufficialmente interessato al Milan da diverse fonti, che piaccia o che non piaccia. Quindi io vi lascio innanzitutto qui sotto a voi di opinare, cioè dire la vostra rispetto a ciò che è stato detto finora e allo stesso tempo vi aspetto questa sera in un nuovo video di un'altra telefonata che so che è piaciuta a tanti ieri quello che ho fatto la telefonata a Boban sui terzini destri che io li propongo. Oggi ne ne farò un'altra al posto di Calabria ieri, al posto di Suso, altri tre nomi ti do e tra questi tre certo non rientra Politano, che ho sentito un possibile interessamento se non acquisto del Milan. Vedremo. Detto questo ragazzi continuate a iscrivervi a questo canale, siete stati grandiosi ieri, veramente cento di botto, vi voglio bene, ma veramente vi voglio bene. Prima di fine mese voglio arrivare a mille iscritti, vediamo se ce la facciamo. Quindi dagli un like se ti è piaciuto questo video, dagli un click per l'iscrizione al canale con campanellina accesa e vi aspetto questa sera in un nuovo videoprogramma, mi raccomando, perché parlerò ancora con Boban. Dal vostro marietto milanista, con tutto il mio cuore rossonero, ti aspetto sempre con buona vibrazione rossonera. Ciao!